Siamo di fronte a quella che potrebbe essere una tipica situazione in cui ci troviamo lavorando con il nostro Mac. Abbiamo diverse finestre aperte che appartengono a diverse applicazioni. Voi sapete che nel Mac OS le finestre si accavallano, per cui abbiamo un video di QuickTime, abbiamo una finestra del Finder, la finestra con la cartella Applicazioni, abbiamo una finestra del browser di Safari, abbiamo altri documenti, documenti di anteprima, abbiamo documenti in TextEdit, quindi documenti di testo, insomma abbiamo un certo numero di applicazioni aperte, ognuna delle quali ha un certo numero di finestre. Nelle versioni precedenti di Mac OS si era tentato di sistemare questo problema con diverse strategie. Tutte le strategie precedenti sono state riunite in quello che adesso viene chiamato Mission Control. Mission Control corrisponde a un'icona che troviamo nel dock quando installiamo Lion, che è quest'icona, la seconda dopo Launchpad, che possiamo premere per riprendere il controllo della situazione del nostro Mac. Come vedete, le finestre vengono automaticamente raggruppate in base all'applicazione a cui appartengono. In questo modo noi possiamo andare direttamente sull'applicazione su cui vogliamo andare a lavorare semplicemente cliccando il documento che appartiene a quell'applicazione che verrà automaticamente portato in primo piano. Oltre a questo abbiamo la gestione delle scrivanie, qui in alto. Ce n'è una che è predefinita sempre presente che si chiama Dashboard. La Dashboard contiene alcune utility, alcuni piccoli widget, che noi possiamo utilizzare ad esempio per aver sotto controllo l'orologio di un altro paese oppure un calendario così a colpo d'occhio, il tempo, una calcolatrice, ma se noi andiamo nel tasto più scopriamo che già di base Lion offre una serie di altri strumentini, ad esempio un convertitore di vari tipi di misure e di numeri. Abbiamo anche un gestore dei widget, quindi un piccolo pannello, un widget anche gli stesso, che ci permette di gestire la visibilità degli altri widget. Possiamo anche andare a recuperare altri widget dal sito Apple. Qui continuasse qualche problema di connessione, ma in realtà attraverso questo sito voi potete andare a scaricare, ad esempio prendiamo questo piccolo widget, una calcolatrice scientifica, i widget di norma sono gratuiti. Come vedete una volta scaricato viene automaticamente proposta l'installazione e quindi andiamo ad installarlo. Torniamo al nostro Mission Control, quindi usciamo da questo dashboard attivando Mission Control. Mission Control quindi ci fa vedere anche delle scrivanie. Una delle funzioni nuove di Lion è la possibilità di avere applicazioni che vanno a schermo intero, per cui se io vado a cercare il mio Safari con queste due freccine lo posso mandare a schermo intero e a questo punto io potrò utilizzare l'applicazione e non avrò altre distrazioni. portando il mouse in alto avrò la possibilità di accedere ai vari menu, ma qui non ho più la possibilità neanche di accedere a Mission Control perché non abbiamo più il dock che appare quando mi sposto sulla destra. Quindi usciamo momentaneamente dal pieno schermo e andiamo a vedere attraverso le preferenze di sistema quali metodi abbiamo per attivare Mission Control piuttosto che andare a cliccare il dock. Accediamo quindi alle preferenze di Mission Control. Qui possiamo associare un tasto funzione. In questo caso c'è associato F9 quindi possiamo già provarlo. Vedete che la F9 apre Mission Control e la F9 di nuovo ritorna nello stato normale. Anche qui possiamo attivare degli angoli attivi volendo, per cui possiamo attivarlo con F9 oppure attivarlo spostandoci in alto a sinistra. Torniamo al nostro Safari ma andiamo a pieno schermo. Attiviamo Mission Control. Safari si è preso una sua scrivania portandolo a pieno schermo. Succede questo. Ma a pieno schermo possiamo portare anche questa finestra di anteprima che occuperà un'altra scrivania. A questo punto noi potremo anche aggiungere delle scrivanie tramite questo pulsante e alla scrivania 2 associare ad esempio questo documento in modo tale che andiamo a riorganizzarci lo spazio e poi semplicemente con i tasti Control e freccia destra mi sposto a destra Control e freccia a sinistra mi sposto a sinistra e vado quindi a ottimizzare lo spazio di lavoro di Lion F9 per tornare ad avere il controllo completo della situazione. Le applicazioni a pieno schermo quelle scritte appositamente per Lion per sfruttare questa funzionalità come vedete hanno una loro icona quindi la scrivania di appartenenza assume proprio l'icona dell'applicazione. Le applicazioni invece che non hanno che non sono state scritte per Lion non avranno quest'icona ma comunque potranno andare a occupare una scrivania. Possiamo anche decidere di associare automaticamente una finestra a una scrivania trascinando la finestra in quest'icona in modo tale che venga creata la scrivania che contiene quella finestra. Poi possiamo anche dire ad esempio in questo caso al Finder attraverso il tasto destro nel dock tra le opzioni possiamo dire che il Finder venga assegnato a questo desktop in modo tale che su questo desktop verranno raccolte tutte le finestre del Finder. Avete visto che in automatico se premo l'F9 lo vedo anche dal Mission Control in automatico tutte le finestre del Finder sono state portate all'interno di questo desktop. Abbiamo già visto che esiste la funzione Riprendi quando io eseguo il riavvio del Mac il fatto di dire Riapri le finestre del login successivo mi ristabilisce questa condizione di Mission Control cioè mi ricrea queste scrivanie e mi riporta le finestre nelle varie scrivanie da cui sono partito. Ora che abbiamo un po' visto come funziona torniamo a vedere le preferenze di sistema e andiamo a vedere le preferenze di Mission Control vedete che posso attivare o meno il dashboard come spazio quindi se lo disattivo non appare più il dashboard qui ma verrà richiamato da un suo tasto funzione che è l'F12 posso dire all'Ion di riorganizzare automaticamente gli spazi quindi in base all'applicazione che ho usato più di recente questi spazi possono riorganizzarsi in modo tale che passando da uno spazio all'altro passo sempre tra le applicazioni più usate poi come vedete abbiamo la possibilità di associare diversi tasti funzione posso associare un tasto funzione singolo oppure un tasto del mouse oppure posso premere un tasto modificatore come l'alt e andare poi ad associare il tasto funzione col tasto modificatore oppure posso toglierlo Mission Control quindi diventa proprio la modalità più comoda per avere sotto controllo tutta la situazione di applicazioni finestre aperte in Lion grazie a tutti Grazie a tutti